Nome? Tiliana Nome? Gianluca Cognome? Anna Clerio Cognome Tre aggettivi per descrivere il tuo fidanzato? Simpatico, dolce, generoso Tre aggettivi per descrivere la tua ragazza? Bella, simpatica, soddisfacente Un consiglio? Sì, meno spontaneo Un consiglio? Un consiglio? Non mi volere così male La sua data di nascita? 20 settembre 1990 La sua data di nascita? 31 marzo 1990 Cosa pensi di Bariblu? Penso che sia un ottimo centro commerciale in cui si concentrano negozi soddisfacenti Cosa pensi di Bariblu? Fatto abbastanza bene Il tuo negozio preferito? Zara Il tuo negozio preferito? E c'è ne Facci vedere cosa hai comprato oggi Un regalo Un regalo, ok Wow Cosa hai comprato? Tra i due, chi è il più ritardatario? Zaluca Chi è il più ritardatario? La prima volta che vi siete dato un bacio? E nel cinema La prima volta che vi siete dato un bacio? Al cinema Da quanto tempo siete fidanzati? Un annetto Da quanto tempo siete fidanzati? Un anno e due mesi Se potessi tornare indietro ti rimetteresti con lui? Certo Se potessi tornare indietro ritorneresti con lei? Sei gelosa? Sei gelosa? Molto Sei gelosa? No Bugia Il suo colore preferito? Blu metallico Il suo colore preferito? Il rosa Tra i due, chi è la più intelligente? Il più? Intelligente Io Che è più intelligente Domanda di cultura generale Chi ha scritto il 5 maggio? Pascoli Chi ha scritto il 5 maggio? Pascoli Chi ha scritto i promessi sposi? Alessandro Manzoni Chi ha scritto i promessi sposi? La data della scoperta dell'America? Quando è morta Cleopatra? Salutate Bari Blu Ciao Un consiglio che volete dare a Bari Blu? E rimanere aperto sempre la domenica Se già non lo fa E niente Un consiglio che volete dare a Bari Blu? Continuate a lavorare così che state lavando bene Abbracciatevi, dimostrazione di affetto Salutate me Salutate il cameraman Ciao E salutate Bari Blu Ciao Ciao